Il problema è che ci veniva fuori un altro lavoro. Eh già. Capito? Noi gli altri vestiti, io già c'ho da fare, che oltre al mio lavoro c'ho da tirare avanti la terra, gli animali, la tiziana. Però anche il bad and bread fast richiede un minimo, no? Non muove. Guardate questo topo. Minimo, minimo, minimo. Un topo? C'è un topino mini. Guarda, guarda il topino. Tutte le settimane, qui, soltamente le settimane. C'è piccolissimo. Ma io pensavo che erano almeno un po' più grandi. È vivo, è vivo, eh? È vivo? Sì, è certo che è vivo. Posso stupendere? No, non lo so. Eh, io lo so. Ma che buona!